Capisce se eg. io pensavo al coso straordinario. Conchigli. Moe conchiglie che fanno sesso in città. A quale scopo, archite? Beh, perchè ha nostalgia della nevrosi! A quale scopo, archite? Beh, perchè ha nostalgia della nevrosi! A quale scopo... Le si mette una conchiglia. La conchiglia sente... ... Ma non ma il sinenzio ma no ma cosa si festeggia? oaaaaaaaain oaaaain fezi il piacere di cazzo mentre aspetti quello del fa è merda pura non lo so c'我很 Glen Ringhiere che non tengono Al cazzo Un progetto San Pietro si immagini con delle cose se Straordinarie Con delle cose se muoventi che vanno su giù Fanno un po' di sesso Che vengono giù e fanno ratapapà Capisci? A-pa-pa-pa-ta-papà E allora faccio un nuvole di sceme Con del caffè... Con del caffè di design E se... E' la nuova giolidina pazza Si faccia un caffè E' architetto Ah, che buono! Me lo ricordavo più liquido Ma no, la capsula va messa qui Buonissimo Messino E gradini visibili, po- A quale scopo?